Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Padova e dunque in primo piano c'è la cronaca, la cronaca dell'incendio scoppiato questa mattina in un'azienda di Conselve, la paura per tanti che hanno visto le fiamme anche a più di 20 km di distanza. L'allarme è dato da un passante, il fumo visibile, a decine di chilometri le fiamme e il rogo. Incendio questa mattina in zona industriale in via Terza Strada a Conselve, alla Isokit, un'azienda che produce allestimenti isotermici per camion frigo. Verso le 5 di questa mattina è andato a fuoco nel piazzale esterno dell'azienda un cubo di poliuretano utilizzato per coibentare i camion. Nessun'altra azienda confinante è stata coinvolta da rogo. 6 le squadre dei vigili del fuoco intervenute dalle sedi di Piove di Sacco, a Banoterme e dalla centrale di Padova, con 12 vigili del fuoco impegnati per almeno 3 ore a domare le fiamme. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAV per monitorare lo stato dell'aria che al momento non risulta compromessa. Ancora incerto cosa abbia innescato il rogo. Due uomini condannati in via definitiva per reati di violenza sessuale sono stati rintracciati, arrestati dalla squadra mobile di Padova e portati in carcere. Il primo a finire al Due Palazzi è stato un marito e padre di 53 anni, tunisino, condannato a 7 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza per almeno 8 anni nei confronti della convivente e delle loro figlie. Il secondo è un 46enne romeno, condannato a 5 anni e mezzo di carcere perché nel 2017 violentò una connazionale. Gli uomini della questura li hanno rintracciati e condotti al carcere padovano per scontare le relative pene. Durarono ben 8 anni le violenze del nord africano su moglie e figlie, minacce armate, umiliazioni, vessazioni come la consegna di tutto lo stipendio della donna al compagno. Violenze sessuali non consenzienti, maltrattamenti pesanti sulle figlie piccole. I fatti che invece hanno portato in carcere per 5 anni e mezzo per violenza sessuale il 46enne romeno risalgono all'agosto del 2017, vittima a una donna sua conoscente che venne da lui violentata e picchiata e che tentando la fuga da quell'incubo cadde da un balcone riportando gravi contusioni. Adesso la tragedia della Marmolada. Proprio in queste ore si è appreso che l'undicesima vittima della tragedia sarebbe stata recuperata, l'ultima persona ancora dispersa, dunque recuperata, e sono in fase di identificazione i resti di questa persona. Dunque tutte le vittime per ora accertate della strage sono state recuperate. Proprio in questi minuti è in corso una conferenza stampa a Canazzei con gli uomini del RIS di Parma. Ieri sera intanto c'è stata la veglia di preghiera a Cittadella per Davide Miotti e Erika Campagnaro, la cui sorte non è ancora nota. E proprio ieri in una lettera diffusa dall'avvocato Massimo Simonini, legale dei familiari degli escursionisti Miotti e Campagnaro, si chiede se non vi fossero autorità pubbliche preposte a verificare lo stato del crepaccio, che per suonatura può causare distaccamenti, situato a monte di una maeta turistica ad alta frequentazione. Le richieste legittime da parte dei familiari dei dispersi delle vittime, se questa tragedia si poteva evitare. Insomma è un po' di giorni che c'è questa pressante richiesta dei familiari. Una parziale risposta è arrivata ieri sera nel corso di un'altra conferenza stampa a Canazzei da parte di un tecnico della provincia autonoma di Trento. Sentiamo le sue parole. Il tipo di monitoraggio che stiamo facendo adesso è per capire se il fronte glaciale che è rimasto in piedi si muove o meno e non si sta muovendo peraltro. Questi monitoraggi non vengono fatti di norma sui ghiacciai se non in casi specifici, tipo in Val d'Aosta ce n'è uno, perché c'è un seracco pericolante. Magari il seracco rimane lì anche per qualche anno di fila pericolante, quindi avrebbe senso anche installare della strumentazione per monitorare come nelle frane che durano anni, con movimenti molto lenti, si mettono le strumentazioni e si guardano le deformazioni. Nel caso di un ghiacciaio intero, a parte che ci vorrebbero centinaia di strumenti, ma non avrebbe senso perché cosa punti? Non c'è un elemento, c'è una massa bianca, ci sono dei serac, ci sono delle cose particolari, ma non un elemento instabile in sé. Quindi lo strumento funziona in modo che manda un'onda elettromagnetica, rimbalza sulla cosa che vogliamo misurare, ritorna indietro e io mi faccio la fotografia e vedo gli spostamenti, ma se la massa è tutta uniforme, non ha particolari discontinuità, lo strumento non mi aiuta per niente. Oltretutto il ghiacciaio è sempre in movimento, il ghiacciaio si muove per sua natura, viene alimentato da monte, quindi continua il suo movimento, poi naturalmente con il riscaldamento in questi anni si ritira, la fronte del ghiacciaio si ritira, però il movimento è incessante e quindi anche lo strumento ti direbbe si sta muovendo, ma questo non vuol dire assolutamente niente, non è che vuol dire crolla. È molto differente per esempio dalle valanghe il meccanismo, quindi che io sappia non si possono monitorare in questa maniera tutta l'area del ghiacciaio. Ci sono altre maniere, altri strumenti tipo i satelliti, però a scala un po' più vasta, che permettono di avere delle fotografie dello stato del ghiacciaio, ma questo lo usiamo per bilanci di massa, per capire quanto regredisce, si misurano le fronti, ma non per il caso specifico, a meno che, ripeto, si trovi che c'è un punto pericoloso e che ha senso monitorare. Qui non c'era mai stato, in questi ultimi giorni siamo contattati da tutti i centri di ricerca italiani che si occupano di ghiacciai, perché chiaramente essendo eventi che non sta a me dire se sono prevedibile o imprevedibile, ma eventi rari di sicuro, quando c'è un evento del genere, chiaramente il mondo accademico vuole sapere, vuole capire, vuole studiare e penso sia positivo per tutti questo. Torniamo a Padova, i pirati informatici hanno attaccato i sistemi della ditta che gestisce il servizio mense scolastiche del comune di Padova, i dati personali di molte famiglie potrebbero essere a rischio. Il sistema di gestione dati della ditta Dusman Service, che gestisce il servizio delle mense scolastiche del comune di Padova, ha subito un attacco informatico. Per ora, Palazzo Moroni non ha ricevuto dalla ditta notizie di eventuali violazioni di dati personali delle famiglie iscritte al servizio, ma consiglia che queste prendano tutte le precauzioni per proteggerli e per proteggere gli indirizzi mail forniti a suo tempo. La ditta ha messo a lavoro un team di esperti informatici. Il comune di Padova, in una nota, si riserva comunque di verificare e valutare le responsabilità della ditta Dusman Service o di terzi. Ancora la cronaca, una donna di 36 anni sottoposta a un divieto di ritorno nel comune di Padova emesso dal questore, ha tentato di spacciarsi per la sorella gemella per non farsi arrestare durante un controllo statale della polizia avvenuto in via Buonarrotti. La 36enne senza documenti ha detto agli agenti delle volanti di chiamarsi come la sorella da un controllo, ma anche per la presenza di un tatuaggio sul collo. La donna è stata smascherata e condotta in questura per essere identificata. è stata arrestata per aver dichiarato false generalità per assicurarsi l'impunità dalla violazione degli obblighi ai quali era sottoposta. A voi adesso la storia che abbiamo raccontato in queste ore che fa discutere la storia di Iole e di suo figlio Romano. Lei costretta su una carrozzina che assiste il figlio di 19 anni in stato vegetativo. Ebbene, il 15 luglio prossimo l'ufficiale giudiziaro si presenterà alla loro abitazione per una esecuzione di sfratto. Abbiamo lo sfratto e speriamo che anche questa volta riescano ad allungare la data di uscita perché non abbiamo casa e non è pronto niente e non sappiamo dove andare in pratica. Non abbiamo una sistemazione pronta per il 15. Lei è Iole Lionello costretta su una carrozzina per una lesione alle vertebre. Da 19 anni assiste suo figlio Romano Mandruzzato ridotto in stato vegetativo dopo un incidente in auto. I due, dopo una travagliata storia familiare, hanno ricevuto lo sfratto dalla cognata di Romano e il 15 luglio dovrebbero abbandonare la casa di Vaux in provincia di Padova. Non sanno però dove andare. La sistemazione che offre il comune Uganio non è adatta alle loro necessità. Abbiamo parlato col comune, siamo andati a vedere l'unica casa che è la disposizione, che è una casa attere a Bocco. Ma l'ambiente non è idoneo né per la situazione e non ci sono nemmeno gli spazi perché è troppo piccolo, ci sono solo due stanze ma piccole. Di conseguenza non c'è lo spazio né perché ci siano i letti e nemmeno per fare le manovre, per metterlo a letto. E casa c'è solo quella. E soprattutto abbiamo bisogno degli spazi da portarlo da carrozzina a letto, letto a carrozzina che non è presente che questo non è, c'è una lunghezza di uno e dopo va aperto, la base sotto va aperta per poter inserire dentro la carrozzina e quindi ci vuole spazio. Iole non vuole che suo figlio sia costretto ad essere ricoverato in un istituto, cosa che non ha fatto in questi 19 anni. La data del 15 luglio si avvicina e le soluzioni ancora non ci sono per Iole e suo figlio Romano. Il Comune ci ha sempre aiutato, sottolinea, una casa che soddisfi le loro esigenze però al momento non sembra esserci. Io non voglio mettere il mio figlio in ospedale, assolutamente, perché se volevo farlo l'avrei già fatto prima e so quando uno sta in ospedale cosa succede a persone come lui. Non c'è il tempo per seguirli, quindi ho bisogno che qualcuno, qualsiasi persona, se può, come può, che mi dia una mano. Adesso parliamo di siccità ma non solo, parliamo di fiumi. Ci colleghiamo a Curtarolo con Guido Barbato. Guido. Pronti. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi abbiamo la possibilità di darvi, con la collaborazione di Lega Ambiente del Veneto, i dati, per esempio, sullo stato di salute dei nostri fiumi. Incominciamo dal più padovano, sarebbe il Bacchiglione, però se ne è già parlato in passato. Poi c'è, va bene, il Brenta. Siamo proprio in riva del Brenta a Curtarolo. Nella bassa c'è il fratta Gorzone. Sono molti i corsi d'acqua che solcano la provincia padovana. Luigi Lazzaro è il presidente di Lega Ambiente del Veneto. Partiamo proprio dal Brenta, dove ci troviamo qui vicino alle anse tra Curtarolo, Piazzola e i comuni a nord di Padova. Com'è lo stato di salute di questo importantissimo fiume? Buongiorno a tutti. Diciamo che quest'anno non abbiamo riscontrato allarmi particolari rispetto alla fotografia scattata da Lega Ambiente che, ricordo, prende un campione attraverso tanti volontari che raccolgono il dato e lo consegna ai laboratori di ARPAV, che è partner di questa campagna, che poi lo analizza. Questi campioni, in questa fotografia, sono risultati, da un certo punto di vista, diciamo, un segno rincuorante. Dall'altra parte, però, la siccità che vediamo anche alle nostre spalle ci dà un messaggio chiaro che gli inquinanti non arrivano al fiume perché non abbiamo l'acqua. E quali inquinanti vengono valutati maggiormente? Beh, in particolare il dato che noi diamo oggi, che abbiamo monitorato in tutta la campagna, è quello degli scherichiacoli batteri fecali, sostanzialmente, che sono una tipologia di inquinante che ci dà il chiaro segnale di una mancata o scarsa depurazione o dell'apporto troppo importante, diciamo, di affluenti che vengono dal mondo dell'agricoltura, perché parliamo di deiezioni animali. Ecco, e poi, ovviamente, immaginiamo dal mondo dell'industria, dal settore secondario e dall'agricoltura, quanto contribuiscono allo stato di salute, più o buona salute del nostro Brenta, in questo caso? Ecco, quello è uno stato di salute chimico che ci racconta benissimo Arpav, che noi abbiamo indagato ricercando glifosate e ftalati, quindi uno riconducibile al mondo dell'agricoltura, glifosate, un erbicida in particolare, ma anche nel mondo dell'ambito urbano purtroppo ancora utilizzato. Gli ftalati, invece, sono un agente plastificante, quindi utilizzato nel mondo dell'industria e sono inquinanti i cui risultati andremo a dare alla fine dell'anno quando i laboratori ci restituiranno l'indagine. Ma già la stessa Arpav ci racconta di uno stato chimico su cui porre molta attenzione, perché sono molti gli inquinanti emergenti, così definiti o prioritari, tra cui, ricordo, i Pifas, la famiglia dei Pifas, noti a tutti ormai in Veneto, i vari Pifos e via discorrendo, che si riscontrano ormai, Arpav ci racconta, in molti dei nostri corsi d'acqua e che quindi devono lasciarci, diciamo, far accendere una lampadina rispetto alla qualità chimica, che forse quella meno di immediata conoscenza, diciamo, l'inquinante organico, si può anche odorare, insomma, da quel punto di vista, mentre quello chimico è invisibile. E allora dobbiamo porre molta attenzione, non solo alla depurazione, ma anche alle autorizzazioni rispetto ai prodotti che si utilizzano. Lei ha usato una prima persona plurale, dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo chi? Perché il cittadino, d'accordo, può fare la sua parte. Però chi deve sovrintendere, affinché il cittadino veneto, padovano in questo caso, ma comunque del Veneto, possa dire l'acqua del fiume che passa vicino a casa mia, che, insomma, sappiamo, è un grande dono, è un grande elemento naturale. In Veneto, insomma, i corsi d'acqua non mancano, importanti anche a livello nazionale. Chi è che deve sovrintendere a questa qualità? Diciamo che è un sistema complesso, quello di un corso d'acqua. Non a caso si parla di bacini idrici, non di fiumi soltanto. Noi guardiamo i fiumi principali, che sono quelli su cui cerchiamo anche di sollevare l'attenzione dei cittadini, perché un fiume passa in tutti i nostri territori e tutti vogliamo bene o abbiamo un fiume che ci attraversa, diciamo, dove abitiamo. Però è evidente che bisogna agire dal punto di vista non solo dell'interesse del cittadino e quindi del buon padre di famiglia, del buon atteggiamento nel non, diciamo, gestire male i propri scarti. Serve un intervento evidentemente accaduta dal Governo, alle Regioni, agli amministratori locali in quest'ordine, perché servono degli indirizzi chiari, ad esempio sulla depurazione, servono le risorse evidentemente per separare le acque, ad esempio meteorologiche, da quelle di scarico, che ancora oggi nelle città così non è. Serve recuperare le acque di scarto e depurarle, quindi impianti di depurazione, che per riutilizzare queste acque in agricoltura. È importante investire a tutti i livelli amministrativi, quindi gli amministratori che ci rivolgiamo, da quelli locali per, diciamo, con più forza agire coesi, perché un fiume è un ecosistema, è un ambiente che non riguarda un singolo comune, ma riguarda una comunità molto più estesa di più comuni. Allora serve fare squadra, agire insieme e chiedere, diciamo, le risorse e gli impegni corretti alla Regione e al Governo e dall'altra parte però agire nel concreto per mettere in campo i progetti, ad esempio, di depurazione delle acque, di, ripeto, separazione delle acque di scarico, di sistemazione della rete idrica che ancora disperde moltissimo. Non ne parliamo di questo. E in siccità, abbiamo necessità, diciamo, di non perdere quell'acqua che se si infiltra nel terreno non avremo a disposizione subito, avremo a disposizione in un tempo molto più lungo e chissà contaminata da quali inquinanti perché attraversando il terreno l'inquinamento ovviamente viene a contatto con l'acqua. Chiarissimo Luigi Lazzaro, Presidente dell'Egambiente Veneto. Chiudiamo qui da Curtarolo, dalle rive del Brenta, questo nostro collegamento. Linea allo studio. Grazie, grazie a Guido Barbato e anche a Luigi Lazzaro. Torniamo a Padova, costi che lievitano e personale che non si trova e quindi anche a Padova i baristi costretti a ridurre l'orario di attività. Noi quest'estate chiuderemo, abbiamo già programmato la chiusura di un negozio per una settimana intera e stiamo facendo a rotazione dei negozi che teniamo chiusi nel pomeriggio perché non abbiamo il personale per stare aperti. La testimonianza di Giuseppe, titolare di 6 bar pasticcerie a Padova, per questo periodo estivo gli mancano circa 7 dipendenti per poter garantire turnazione e ferie e così ha deciso, nonostante il lavoro non manchi, di ridurre gli orari di apertura dei suoi locali che di pomeriggio appunto rimarranno chiusi. I motivi sono molteplici, oltre alla difficoltà a trovare personale ci sono anche i costi lievitati di materie prime e dell'energia. Paradossalmente siamo in un periodo peggiore di quello che è stata la pandemia perché in questo momento tralasciando che sono stati i costi di materia prima e energia che ormai sono schizzati abbiamo momenti che superano il 100-120% ma quello che oggi sta succedendo è la carenza assoluta di personale. Non riusciamo a tenere i nostri locali aperti perché non c'è personale qualificato. Come Giuseppe, secondo App, l'associazione che riunisce i pubblici esercizi padovanici sarebbe circa il 35% dei titolari di bar in queste condizioni. Il problema riguarda soprattutto la mancanza di personale difficile da trovare nonostante la paga spiega Giuseppe sia buona. Il contratto di apprendistato prevede che una persona abbia come stipendio di ingresso circa 1300-1320 euro questo qua è lo stipendio di ingresso naturalmente più le ferie più la tredicesima più tutto quello che ci va dietro quindi per un ragazzo che arriva qui a lavorare anche che esce dalla scuola alberghiera trovarsi già 1300 euro non mi sembra uno stipendio da buttare via. Proseguono i lavori sulla strada provinciale 47 Val Sugana per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Brenta per l'Alta Padovana adesso è fondamentale il raddoppio della strada regionale 308 del Santo. Un giorno davvero felice per la comunità di Curtarolo di Piazzola e di tutta l'asta di questa strada provinciale. Ecco, provinciale che deve diventare statale in questo tratto. Assolutamente sì deve diventare statale per tanti motivi perché interessa un territorio è molto vasto sono molti comuni interessati e i lavori che si devono fare di adattamento sono molto importanti la provincia non si è mai tirata indietro tutte le amministrazioni provinciali che si sono via via susseguite anche quella attuale chiede a gran voce a Regione ma soprattutto al Governo di adottare tutti quei provvedimenti utili e necessari in verità ce n'è solo uno è un DPCM che cambi la natura di questa strada diventi finalmente statale e possa diventare una direttrice moderna di servizio ai comuni ai cittadini alle tante imprese di quest'area perché ricordiamoci che qui attorno abbiamo la produzione di pil la più importante d'Italia la prima della nostra provincia è la prima una delle prime primissime in Italia dobbiamo dare le infrastrutture Val Sugana ma anche strada regionale 308 lei da sindaco di Cadoneghe sa bene che cosa significa noi stiamo attendendo Regione che ormai è pronta per poterci dare il nuovo progetto della 308 la 308 va allargata va ammodernata e va adeguata alle sfide del prossimo futuro quali sono le sfide del prossimo futuro sono quelle di un territorio che sta crescendo non solo in termini popolativi ma sta crescendo anche in termini di pil e di produzione industriale e di lavoro è un territorio quello tra Cadoneghe e Padova che vedrà nei prossimi anni importanti cantieri di ammodernamento e di preparazione per il nuovo ospedale di Padova in questi giorni il dibattito anche a livello nazionale sullo IUS scole per i cittadini stranieri di seconda generazione sentiamo cosa ne pensano i padovani io penso che se qualcuno è nato qui è giusto che prenda la cittadinanza qui quindi indipendentemente dalla frequentazione scolastica basta la nascita beh no bisogna anche andare a scuola imparare le lingue imparare un po' di storia certo fare un percorso come lo fanno i nostri figli da quando nascono in poi cinque anni sono sufficienti come dice questo progetto di legge penso di sì se un bambino comincia dall'inizio penso proprio di sì è d'accordo ma sì se loro sono nati qui si studiano qui però se anche hanno fatto le scuole italiane non ci vedo io problemi qua io sarei d'accordo proprio senza dubbi ti vedo sì posso chiedere che a te sì io anche sono d'accordo cioè se nascono qua i bambini e la scuola seguono la nostra perché non dovrebbero avere la nostra cittadinanza io per avere la cittadinanza ho aspettato 50 anni l'ho aspettata quanto? 50 anni io requisiti per i bambini 5 anni secondo me poco sono a favore senza se e senza ma senza se e senza ma perché è giusto che anche loro se vivono qua siano italiani va bene? non lo so non posso dire hanno genitori cittadinanza possono anche i bambini di prendere cittadinanza da cittadinanza per bambini senza genitori non lo so se c'è un percorso familiare di studi non lo troverei non è in questo momento il primo dei problemi indubbiamente che ne abbiamo veramente tanti non mi trova completamente anche perché ormai le società si aprono si allargano c'è nulla però che comunque si rispettino anche i codici cioè non è solo un solo avere diritti anche dei doveri ci sono per contra assolutamente sì credo che un bambino che sia nato in Italia e che abbia già iniziato un percorso sì abbia il diritto di completarlo finirlo e anche di diventare un cittadino italiano non lo so mi dispiace parliamo di sport paralimpico lo stadio Colbacchini di Padova vanno in scena gli assoluti l'atletica paralimpica torna in pista a Padova con gli assoluti che si svolgeranno per due giorni fino a domenica lo stadio Colbacchini un evento sportivo per assegnare i titoli tricolori per la stagione 2022 la manifestazione è stata organizzata dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e da Sindustria Sport Padova che insieme al Comune riportano in città i grandi campioni italiani il campionato nazionale è un momento molto importante per come dire stare un po' la salute di una federazione abbiamo avuto il record di iscritti così come lo abbiamo avuto al campionato nazionale indoor che sono le gare al coperto per cui direi che lo stato di salute è molto buono il movimento è in crescita sia in ambito promozionale che in ambito open sono 170 gli atleti che gareggeranno nella due giorni al Colbacchini tra di loro anche Maxel Manu il velocista reduce dal Grand Prix di Parigi è stata un'esperienza bellissima era oltretutto la prima trasferta che ho fatto con la maglia dell'Italia quindi è stata un'emozione molto forte per me poi ho fatto felice tutto lo staff gli allenatori e tutti comunque quelli che mi hanno aiutato in questo percorso quindi è stata una cosa molto bella il giavellottista Stanislav Ricci che ha appena conseguito un record nazionale a Jesolo da Jesolo l'ultimo risultato utile è molto preparato perché ho superato i 50 metri finalmente facendo il nuovo record italiano di categoria gioca in casa la velocista Alice Maule di Vicenza l'esperienza in Finlandia è andata molto bene mi sono portata a casa un grande bagaglio di emozioni e sensazioni positive in questo campionato italiano gareggerò nei 100 metri nei 200 metri nel salto lungo per la categoria T11 9 denti un bocca al lupo dunque agli atleti grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti